puntata del giovedì di piazza grande ben ritrovati da nella sessa insieme a me già lo vedete in schermo tutto in tinta con la scenografia soprattutto buon benvenuto da andrea giovannini buonasera allora non parliamo di sport con lui visto che insomma chi è abituato a seguire tre antenne il calcio insomma è abituato a vederlo così facciamo un po' di autopubblicità ma parliamo un po' di circoscrizioni andrea giovannini impegnato da diversi anni in circoscrizione il suo grande amico di viaggio sportivo anche l'orento giorgi oltre adesso attualmente in consiglio comunale comunque è stato presidente di circoscrizione per parecchio tempo e oggi visto che appunto si sta un po' nuovamente discutendo di circoscrizioni o meglio c'è una sorta di un po' ribellione da parte dei consiglieri è un po' generale poi questa cosa perché non sono contenti neanche chi ha lo stesso colore politico della maggioranza e proprio affronteremo le circoscrizioni in due situazioni in questa prima parte parleremo di cosa sono le circoscrizioni in altre realtà come Verona o come erano prima dell'abolizione come in quella di Gorizia anche se li si chiamavano consigli di quartiere insomma poco grande e dopo di che spiegheremo cosa non si fa qua e nella seconda parte cercheremo di capire il motivo e cercheremo di entrare nei dettagli allora parliamo di circoscrizioni nelle città per comunità non distingueremo tra circoscrizioni e consigli di quartiere ma partiamo proprio da quella che fosse l'esperienza più importante e più simile a noi anche come caratteristiche di città cioè la città di Verona diciamo che in buona sostanza proprio per abitanti per circoscrizione Verona è la città che ci assomiglia un po' di più e la grossa differenza tra Trieste e Verona è le competenze che proprio Verona ha nel suo globale diciamo che le circoscrizioni nascono per essere effettivamente la primissima istituzione quella più vicina al cittadino cosa che per molte giunte comunali è così e per molte altre invece non lo è quindi diciamo che a Verona per esempio a differenza comunque sempre in fase consultiva il consiglio circoscrizionale partecipa in tantissime situazioni che sgravia praticamente il consiglio comunale di tante opere quindi possiamo partire dal discorso del bilancio comunale che è fatto in parte anche da quello dei consigli circoscrizionali dalle deleghe importantissime in materia di lavori pubblici quindi il lavoro per mettere a posto il marciapiede piuttosto che per mettere a posto la scalinata della circoscrizione sempre nel perimetro della circoscrizione è delegato completamente al piccolo parlamentino per capirci non il marciapiede paradorano solo al marciapiede di tutta barcola per capirci no questo sicuramente però i piccoli lavori di manutenzione sono delegati alla circoscrizione che se ne occupa in toto completamente addirittura la circoscrizione a Verona in qualche contesto si mette in gioco e crea delle nuove opere quindi propone delle nuove opere che possano essere inserite in un contesto più grande a livello comunale ma che però possa e ovviamente interessino la propria circoscrizione questo è un'altra delle cose che è importante è la deleghe in materia di gestione di beni comunali quindi qualsiasi bene comunale è gestito direttamente dalle circoscrizioni senza dover passare per il comune la stessa cosa nella gestione delle scuole materne comunali nel servizio delle mense, delle scuole e degli altri servizi scolastici altra cosa importante è che in comune evidentemente è abbastanza oneroso posso anche dirlo che probabilmente soprattutto per la gestione magari di certe situazioni probabilmente è più facile avvicinare il volontariato alle circoscrizioni che non è in comune proprio perché in comune magari hai una persona in quell'ufficio che deve fare tutto decisamente in circoscrizione hai una persona che deve fare soltanto due cose quel piccolo proprio certo lavoro nella propria zona insomma evidentemente la stessa cosa vale anche per l'attività sportiva e per la gestione degli impianti sportivi della circoscrizione diciamo che lasciamo la parte sportiva perché se la depo di sì dopo mi allargo anche peccato quella non possiamo perché se no poi finiamo a fare la trasmissione a persona sì esatto e le deleghe soprattutto anche in materia di servizi culturali nei rapporti con le scuole con gli organi collegiali della scuola questo in buona sostanza è quello che succede in una città come Verona che è molto simile a Trieste senti in grosso modo per la circoscrizione a Trieste si fa un bilancio di spese di capitolato dove si dice boh si ti mette a disposizione tra soldi però comunque passano sempre attraverso diciamo l'ufficio centrale diciamo sempre a palazzo che va per quel che riguarda invece Verona tu sei fatto un'idea qual è il bilancio perché io che so quello di Gorizia che era altino a Verona quanti soldi poi hanno le circoscrizioni effettive perché a prescindere da appunto da fare l'unione che sei a livello un po' di consultazione non vincolante di parere per cui però cioè io so che qui le circoscrizioni hanno 20-25 mila euro che quindi non fa praticamente nulla tutto insieme quindi sì non fa praticamente nulla no no questo no non ho i dati esatti di Verona però suppongo che per fare tutto questo tipo di attività ci sia comunque un buon pezzo del bilancio comunale della città totale inserito in questo discorso qua loro hanno 8 circoscrizioni la maggior parte delle 8 circoscrizioni sono sopra i 30 mila abitanti quindi alla fine divide un po' quello che è il bilancio della città e vedi che sarà in parte per tutte quante le circoscrizioni diviso senti spostiamoci invece a Gorizia io so che quando a Gorizia non sono riuscito a mettersi d'accordo per diciamo le macro circoscrizioni anche perché lì sinceramente pensare di prendere un pezzo di qua un pezzo di là un pezzo di su un pezzo di giù e fare un'unica circoscrizione che non fosse un unico territorio perché adesso si faceva proprio un discorso di etnie da questo punto di vista c'è italiani con italiani filo sloveni con filo sloveni filo frullani con filo frullani che ovviamente sarebbe stato un gran pasticcio però io so che lì sparite i consigli di quartiere quindi le circoscrizioni diversi problemi ci sono stati perché ovviamente chi organizza il lavoro seriamente vede le circoscrizioni non come un contentino per chi ha fatto il galoppino per le elezioni ma bene come persone proprio che operano front office appunto sul territorio il comune centrale si è trovato più di qualche volta in difficoltà perché appunto solo la porta di calcio la panchina rotta il cistino insomma per tutte queste cose piccole c'erano questi consigli di quartiere e quindi insomma le golizze che è una cittadina piccolina e quindi in teoria potrebbe anche tantissimamente gestirsi in autonomia ma forse proprio perché ha una sorta tipo appunto la nostra barruzza per diretti la nostra barruzza saggio ecco che chi in consiglio comunale non poteva rappresentare quella zona rappresentava là e quindi sicuramente dava un aiuto in più ecco l'esperienza di golizze le circoscrizioni non erano che sono solo oltre i 100.000 abitanti golizze è proprio stato l'esempio più lampante beh viene da sé che non è il caso di golizia e quando si inizia a avere una una situazione che va da sé e va bene è il momento nella quale questa macchina che è già rodata che è già oleata e funziona viene a mancare quel pezzo di catena di montaggio alla fine e tutto va a farsi benedire è evidente che che anche nonostante non ci siano i 100.000 abitanti di cui dicevamo in una città che è già organizzata in questa maniera ovviamente quando hai qualcosa che non va poi procede a questo è proprio questa l'arma vincente secondo me delle circoscrizioni è il il dividere i compiti in maniera tale da poter dare a tutte a parte la rappresentanza a tutti ma anche dare un impegno minore ai tecnici comunali che devono altrimenti fare tutto quello che riguarda la città e tutti i rioni ma soprattutto dare quello che è la vicinanza con i cittadini nella circoscrizione sapendo poi effettivamente i problemi che il rione ha e probabilmente a Gorizia essendo anche poi molto esteso al di fuori della città diciamo i problemi magari il consiglio comunale non tutti li conoscevano mentre magari nel consiglio rionale nel piccolo parlamentino chi lo fa magari anche si abita ed è sicuramente più proposto per parlare di qualsiasi tipo di problema che c'è in quella zona io mi ricorderò quando venne modificata la viabilità a Trieste in una certa via via che praticamente utilizzavano soltanto residenti in comune hanno detto siccome non so neanche sapevano esattamente dove fosse dove era questa via parliamo di San Vito dove sono tutte le vittime piccole vabbè ma voi andiamo avanti anche contro tanto se faremo intanto non passa nessun altro a volte si fanno anche i piedi del traffico o queste piccole modifiche senza neanche sapere quello che è e ignorando molto spesso anche le osservazioni che provengono dalle singole appunto circoscrizioni che conoscono il problema in un altro caso da quando via galleria da quando via testi quindi via galleria via San Michele e via testi e quando via testi ha senso unico in giù molto spesso ai scuteristi o a gente che va a contromando finché più o poi qualcuno si stampa allora ecco che siccome non aveva senso anche perché adesso devi fare un giro della malora cambiare viabilità anche nelle zone anche se siamo in centro ma che tendenzialmente possiamo considerare per i fai che ho comunque utilizzate sono residenti sinceramente sembra una grandissima cretinata ecco senti parlando ancora per spiegare un po' cosa sono le circoscrizioni per poi parlare un po' e capire cosa non va qui a volte appunto come ti dicevo le circoscrizioni e anche purtroppo di essere accaduto vengono utilizzate quasi o come sorta di contentino ma molto spesso ancora più neanche tanto come contentino di zona ma come contentino di minoranza in particolar modo io sto pensando all'altipiano est e all'altipiano ovest ecco una circoscrizione che 800 800 abitanti fa veramente ridere perché non si è riusciti comunque con gli anni indipendentemente che fossimo amministrati al centro destro al centro sinistra a costruire un'unica circoscrizione perché siamo d'accordo che ai consigli comunali al 99% di quello che è accaduto qui cina poi con sassaggio lo iano non viene a frega niente ma tanto non sono di là su questo siamo d'accordo però molto spesso abbiamo visto che si è fatta quasi una sorta di ghettizzazione come se la di piano est e la di piano ovest fossero non Italia o comunque non appartenente alla città di Trieste ancora peggio est ovest divisi perché magari a est c'è più una frazione ovest un'altra ma diciamo che siamo stati un po' il mare sì questo sicuramente diciamo che siamo stati molto vicini all'accorpamento delle due circoscrizioni poi la cosa non è venuta penso suppongo questa legge regionale che non ha permesso la raccosa fanno insieme mi pare intorno ai 7000 abitanti entrambe le due circoscrizioni quindi in buona sostanza meno della metà della più piccola circoscrizione di Trieste quindi insomma evidentemente quello che tu dici è giusto e si potrebbe sicuramente fare un accorpamento poi per motivi anche tecnici di qualche anno fa all'epoca hanno diviso tu sai come sono divise circoscrizioni cioè a Trieste anche sarebbe da rivedarle in maniera certo sono nell'assurdo ti faccio un esempio per esempio via San Francesco un numero civico di via San Francesco ricade nella terza di circoscrizione che è quella dove ci sono io vogliono ritrovare quella con una scorcola che con via San Francesco non piglia niente allora devi spiegarmi la conoscenza ciao 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 certo infatti esiste quindi sarebbe da rivedere tutto il discorso dei limiti delle circoscrizioni e sicuramente sarebbe da rivedere proprio per conoscenza del territorio perché penso che uno che sta a Greta e a Balcola so quanto conosca del problema della via San Francesco esattamente o di Lago Piave o di Lago Piave si fa difficoltà addirittura per quanto concerne la mia circoscrizione a Roiano addirittura io che sono nato vissuto e cresciuto a Roiano faccio difficoltà a conoscere qualche via che c'è in via commerciale che comunque ho praticato anche per la vicinanza con Giorgi che abitava là e quindi via Plinio per esempio io l'avevo mai sentita prima di arrivare in circoscrizione l'ho conosciuta lì e sono andato a vedermi dove è sta via Plinio e effettivamente sarebbe da rivedere un po' tutto compreso il discorso dell'altro piano che sicuramente potrebbe essere accolpato in un'unica prima di andare in pubblicità devo chiederti la qualità ma se te sei nato di tutto a Roiano come mai a Campanelle? perché poi i grandi amori finiscono siate che Giorgi poi i grandi amori finiscono e iniziano degli altri e quindi insomma finito a Campanelle pubblicità ci vediamo a fare un minuto grazie a tutti